Siamo a Bietri, al Comune, all'interno del format di Bini Libri, siamo questa sera con Fortunato Calvino che ha presentato l'ennesimo libro, Il Guardiano di Anime, in edizioni guida. Chi è Il Guardiano di Anime? Volendo sintetizzare, anche perché fino ad ora l'abbiamo ascoltata e su questo libro potremmo raccontare tante cose, quindi siamo più incisivi. Il Guardiano di Anime è questo proprietario di questo appartamento del centro storico di Napoli che accoglie questi studenti che in effetti hanno un doppio scopo, che non possiamo dire perché bisogna leggere il racconto. Altra protagonista è la città di Napoli, con queste presenze che un po' alleggiano in tutte le abitazioni. ne parlavo prima qui con una signora proprio napoletana, diceva che a Napoli le case effettivamente sono animate, non so per quale motivo, mi diceva, da presenze. Quindi è una cosa sentita, avvertita anche dal napoletano, quello che lei raccontava un po' stasera. Cosa voleva affrontare con questo libro? Quale tematica? Secondo me è interessante sapere che una città, oltre ai vivi, ci sono anche altre presenze e poi la storia di Napoli, antichissima, non potrebbe essere diversamente. Per cui io potrei riportare in vita un po' queste anime dimenticate. Virgilio e Beatrice, i due protagonisti, ma non sono gli unici. C'è anche poi Fausto, che qualcuno del pubblico ha paragonato a Dante, la figura di Dante. Non sono nomi a caso. Anche qui possiamo dire qualcosa in più per incuriosire il lettore. Questi due personaggi che hanno questi due nomi importanti? Sicuramente su Virgilio sì, perché il poeta è il magro, è il sepolto a Napoli. E credo che i riferimenti a Virgilio, non sono casuali, ma anche Beatrice, è un po' quella che è la storia della Divina Commedia, che è stata un'opera incredibile, straordinaria, che racconta pure di anime, che racconta anche dei gironi infernali. Per cui il riferimento c'è, però voleva poi essere la mia opera autonoma rispetto a questo tipo di grandezza, di grandi danni, ti diciamo. Un'altra domanda. Lei è un autore teatrale. Qual è la differenza tra scrivere un'opera che verrà poi rappresentata a teatro e scrivere invece un romanzo che viene letto in una condizione completamente diversa, cioè ferita dal pubblico in modo completamente differente? Qual è secondo lei la differenza e quale forma preferisce? La differenza è che appunto il testo teatrale può essere anche letto, però è preferibile poi dopo vederlo in scena. Mentre il racconto è qualcosa di più intimo, di più personale e credo che ognuno che leggerà Il Guardiano di Ani si farà una sua idea di quello che racconto io. Perché così, anche a livello cinematografico, quando vediamo un romanzo portato sullo schermo, non siamo mai soddisfatti perché è qualcosa di molto intimo che diventa poi il racconto dell'autore. Ognuno si farà la sua immagine, un suo film in testa, che è sempre diverso da quello che poi si vedrà sullo schermo. Io credo che questo racconto sia un punto di partenza per me per quanto riguarda il comunicare con un pubblico che credo sia interessato a queste tematiche. Un'altra cosa molto interessante che mi ha molto colpito è il tema della morte, che lei affronta in questo libro, ma lo affronta con leggerizza, almeno dalle sue parole, è passato questo. Perché il tema della morte? Il tema della morte perché chiaramente in questo nostro percorso di vita su questa terra la morte è qualcosa che ci appartiene, che sfiora la nostra quotidianità, anche se vogliamo, perché siamo un corpo e un'anima, ma è comunque molto sensibile alla morte, cioè in qualsiasi momento possiamo perdere la vita. Però ecco, il rapporto della morte è anche il rapporto che il napoletano ha, con il culto dei morti, per cui questo antichissimo culto che non poteva non essere a me affrontato e approfondito. Ultima domanda, chi vorrebbe leggere il suo libro? A un pubblico che la attrae di più? Ma io credo che... All'inizio pensavo al pubblico di giovani, perché visto che ci sono due giovani studenti, però due giovani studenti, pensavo a loro, però credo che con le varie presentazioni che sto facendo e con il dialogo con il pubblico, è trasversale, come sono anche i miei testi teatrali. Un pubblico trasversale, lo possono vedere tutti. Allora le auguriamo fortuna, tanta, e facciamo vedere nuovamente il suo libro. E buon 2020 a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a lei.